Si avvicina il giorno del verdetto che deciderà quale città sarà destinata a ospitare la sede del Lema dopo l'addio a Londra a causa della Brexit. Un'occasione per Milano che è data da molti analisti per favorita nella rosa delle candidate al vaglio e del Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea. Favorita è data secondo le informazioni che stanno circolando in queste ore su Amsterdam, Lille e Copenhagen. A spaventare più che altro la rivale Bratislava salita nell'indice di gradimento in particolare per quanto riguarda le preferenze della Germania. Una scelta incomprensibile come ha sottolineato il sindaco Beppe Sala commentando questo scenario se si pensa che la capitale della Slovacchia è inferiore a Milano per quanto riguarda i servizi. Più preoccupante secondo il primo cittadino è la rivalità di Amsterdam che comunque secondo i rumors sarebbe già stata scavalcata dalla candidatura milanese. Milano sarebbe infatti all'altezza del compito di ospitare la sede dell'Europea Medicine Agency rispondendo ai requisiti necessari come ha sottolineato anche lo stesso Premier Gentiloni a margine del sumite europeo di Gothenburg fresco di informazioni e scambio di opinioni con i colleghi europei. Ma non sono solo i requisiti che aiuteranno Milano ad essere scelta. Sul tavolo ci sono valutazioni di natura anche diversa e che esula dal ruolo del lema, in particolare ad esempio i giochi di potere ed equilibrio tra le potenze europee. In tutto sono 19 le città candidate che stanno aspettando la decisione di lunedì. Ogni paese avrà la possibilità di dare sei voti, così divisi tre alla prima scelta, due alla seconda e una alla terza. Siamo tutti in attesa, mi auguro che ci sia una risposta positiva. Milano è una città europea che svolgerebbe molto bene questo ruolo ha dichiarato la Presidente della Camera Laura Boldrini parlando ieri a margine di un convegno a Milano. Sarebbe una buona opportunità per questa città che è già molto aperta e che ha delle expertise riconosciute. Ma cosa comporterà per Milano la nomina? Innanzitutto va ricordato che EMA ha in mano il controllo dell'intero mercato unico dei medicinali e della ricerca biomedica con un indotto stimato in circa 1,5 miliardi di euro per la città ospitante. Poi considerando che molte multinazionali del farmaco hanno sede proprio in Italia, si può ipotizzare che tale indotto sia destinato a crescere ancora con gli investimenti nel settore farmaceutico italiano e sul territorio. Sono circa 800 i dipendenti dell'EMA che dovrebbero poi trasferirsi a Milano con le loro famiglie. Ma bisogna considerare anche le ricadute sulle aziende e sull'occupazione. Insomma, davvero un'occasione per la città.